Il 13 aprile 1944 una vasta operazione comandata dai tedeschi a cui parteciparono truppe nazifasciste investì il casentino. Ottant'anni dopo anche nel territorio di Bibbiena studenti, associazioni e istituzioni commemorano le vittime civili delle frazioni di Partina e di Moscaio. Ringrazio chi ci ha fatto vivere questo momento di elevata commemorazione, ringrazio sempre chi ci dà le opportunità di riflettere perché come sostengono i miei ragazzi e io vi parlo con un loro pensiero, non con un mio pensiero perché sono un'adulta, è nel passato che affondano le radici del presente. Di conseguenza bisogna conoscere per non dimenticare, per ricordare sempre e per non incorrere negli stessi errori. Il nostro compito, che è il compito non solo dell'AMPI spero, ma anche delle istituzioni e poi di tutti noi, è ricordare quei tempi. Con quello che ci sta avvenendo incontro, insomma qui con le guerre che scoppiano un po' da tutte le parti, bisogna tenere le orecchie ritte. Quindi io penso che gli insegnanti abbiano proprio toccato le corde giuste perché molti dei loro familiari sono stati coinvolti in quello che è successo qui a Partina. E al Moscaio è importante effettivamente perché la nostra classe, la mia classe ha dato per scontato certi tipi di cose. Cioè la libertà conquistata sì, faticosamente, però non è così. La libertà, come diceva Calamandrei, va tutti i giorni conquistata. E soprattutto non scondarsi mai che ci è costata veramente una guerra civile.